E adesso parliamo di un altro calabrese in lustre, parliamo di letteratura perché è ospite del nostro telegiornale oggi, un intellettuale che si è fatto conoscere e apprezzare in tutto il mondo per i suoi studi sul rinascimento e il filosofo Giordano Bruno. E con noi il professor Nuccio Ordine dell'Università della Calabria. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora prima di tutto complimenti, lei ha ricevuto una settimana fa a Parigi il riconoscimento di cavaliere nell'ordine delle palme accademiche dal primo ministro francese. Ma che emozione è stata? Ma è stata una grandissima emozione, però vorrei anche ribadire che bisogna guardare il rovescio della medaglia. In quella sala del Senato a Parigi, insieme a intellettuali del calibro di Umberto Eco, George Steiner, Alain Sogon e tantissimi altri colleghi francesi, la cosa che ho potuto vedere era un po' la mia inadeguatezza. Cioè in fondo tanto ancora mi resta da fare e anziché guardare al passato io penso ancora a quanto debbo imparare e a quanto debbo fare, soprattutto in rapporto con questi grandi studiosi. E devo dire che la Francia per me è stata una grande lezione di vita per imparare e a fare meglio. Ma come il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, le ha scritto una lettera in cui sottolinea la sua straordinaria dedizione all'attività di ricerca e di insegnamento in nome dell'Italia e della Calabria, lei dice che è ancora da imparare. Ebbè, quando uno fa ricerca la prima cosa che sa è che nella ricerca non esiste mai un punto di arrivo e quello che conta è sempre fare meglio e di più. E devo dire che, lo ripeto e lo ripeto spesso anche ai miei studenti, l'esperienza francese mi ha insegnato una grande umiltà, perché vivere in ambienti con persone di una certa eccezionalità, questo dimostra che in effetti c'è tanto ancora da fare e tanto ancora da imparare. Ecco, lo stiamo vedendo dalle immagini, il momento della consegna, consegnargli il premio al Senato francese è stato Umberto Eco, un simbolo della cultura italiana nel mondo. Qual è il suo rapporto con Eco? Io ho conosciuto Umberto Eco a New York quando insegnavo alla New York University e devo dire che da allora è nato un grande rapporto d'amicizia e Umberto Eco è stata persona che mi ha aiutato tantissimo e soprattutto abbiamo tante cose in comune nel nostro lavoro. Grazie al professor Nucciordini, ancora complimenti per questo importante riconoscimento, noi andiamo avanti con il nostro giornale. Grazie a tutti.